Cerchiamo di capire dalle voci dei leader che cosa succederà e per chi votare il 4 marzo. Questa sera è la volta di Matteo Renzi, buonasera, con Alessandro Sallusti, non candidato, ma giornalista, direttore del giornale. Allora, per riscaldare un po' il clima, che invece, come vedete dalla nostra scenografia, è freddissimo qua a Roma, è un disastro nei trasporti, e non so come siano arrivati Sallusti e Renzi qua. Aspetti un attimo, onorevole Renzi, anzi, segretario Renzi, lei non è onorevole. Greta, buonasera. Buonasera. Sulla casta, quanto ne abbiamo scritto? Bene, ne abbiamo scritto, ne abbiamo letto tantissimo, perché nel 2007 esce di Rizzo e Stella la casta, così i politici italiani sono diventati intoccabili. Da quel momento, fino ad oggi, abbiamo contato almeno 10 titoli indignati speciali, sanguisughe, insultiamoli, spudorati, ma c'è un altro cartello ancora, andiamo avanti. Tutti a casa, vitalizi dorati, pesce cani, orgoglio e vitalizio vampiri nel 2017, quindi spesso e volentieri si parla di casta. Non abbiamo fatto altro che parlare di questo tema. Poi dopo, ovviamente, noi abbiamo fatto una provocazione, la gente è esasperata. Cosa può dire a questa gente esasperata? A parte che non ho capito perché ce l'ha con Scialpi, quello lì, che le volte continua a dire Scialpi. Corro, io sono uno di quelli tra i pochi che non ha vitalizio. Sono venuto qui da lei, in questo studio ho mostrato il mio conto corrente, non rifacciamo la stessa... Mi hanno criticato, eh? Mi hanno criticato, mi hanno detto, devi dirgli che c'è un altro conto corrente, Renzi, oltre a quello. Di me dicono tutti, tra un po' mi daranno la colpa anche di Burian, tra le... Però parliamo, andiamo sulla sostanza. Io non ho vitalizio, non ho immunità parlamentare, non ho indennità, per cui posso parlare con una certa libertà di questo argomento. È evidente che c'è stato un abuso. Quando uno aveva tre vitalizi, quello del parlamentare, quello del consigliere regionale e quello, diciamo, dello stipendio, la pensione, per l'attività che continuava ad andare avanti perché era in aspettativa, è evidente che c'era una assoluta, illogica ingiustizia. Ed è evidente che oggi il vitalizio non c'è più. Non è del tutto evidente. Non è evidente, ma io le dico, siccome vogliamo discutere di questi argomenti, per me è importante farlo, ma si sappia che c'è una classe politica, una generazione politica che con i vitalizi non c'è più niente a che fare. Riguarda quelli del passato, riguarda un meccanismo del passato. Oggi non è più così e nessuno immagina di andare a fare i banchetti per reintrodurre il com'era? Il vitalizio? Non è uno sfizio. Che non so chi ve li sceglie a voi gli slogan, ma è una roba che fa pensare. Allora, il vitalizio non c'è più. Il vitalizio è chiaramente uno strumento del passato. Dopodiché però, voglio dirlo agli italiani, bisogna anche avere consapevolezza che di queste cose è giusto parlare. È giusto eliminare gli sprechi scandalosi. Per esempio nel 2010 i partiti avevano soldi per il finanziamento pubblico. Quando Bersani era il segretario del PD prendeva 60 milioni di euro il PD all'anno, nel 2010. Noi oggi prendiamo zero. Non c'è più il finanziamento pubblico ai partiti. Non ci sono più tante voci che c'erano in passato. Ma la differenza oggi la fa la capacità di risolvere i problemi. Cioè, giusto essere onesti, giusto combattere la casta è il minimo, è il minimo sindacale. Ma poi devi essere competente, perché se alla fine sei onesto e bravo e non combini niente, il Paese va a rotoli. Allora, io non ho vitalizio, io non ho immunità, io non ho indennità parlamentare, io faccio politica perché ci credo. Detto questo, dico anche che questa retorica contro la casta avrebbe avuto un significato maggiore se fosse stata accompagnata da una capacità di distinguere tra i politici capaci e quelli incapaci. Perché se tu continui a dire che sono tutti uguali e rubano tutti alla stessa maniera, stai facendo il gioco dei disonesti, stai facendo il gioco degli incapaci. E questo è inaccettabile, direttore. Questo Presidente su quest'ultima parte condivido pienamente, cioè la politica andrebbe giudicata tra i capaci e gli incapaci, l'onestà è un prerequisito. Detto questo, sul tema dei vitalizi, lei se non sbaglio era partito molto bene, perché in una delle prime Leopolde lei lo mise a tema proprio nel suo programma, che non era ancora un programma elettorale ma era un programma politico. Dopodiché in finale però la legge che applica, come dire, che riduce i vitalizi, la legge Ricchetti, anche per i politici, anche per il passato, è stata approvata alla Camera ma poi si è arenata al Senato. E la responsabilità di quell'arenamento era del partito di maggioranza, cioè era sua, del segretario del partito di maggioranza. Tanto è vero che Ricchetti disse mi vergogno di tutto il PD. Guardi, Matteo Ricchetti ha lanciato... Cos'è successo lì? È successo che Matteo Ricchetti ha lanciato la proposta di abolizione dei vitalizi per i consiglieri regionali alla Leopolda e l'abbiamo aboliti. Poi ha lanciato la proposta per abolire i vitalizi per il futuro e questa è andata. Adesso il vitalizio per il futuro non c'è più. È rimasto per quelli del passato, cioè per gli ex parlamentari, per quelli che non stanno più in Parlamento. E questa è passata soltanto alla Camera e poi non è passata al Senato. Non è passata al Senato perché c'è stata una maggioranza trasversale. Poi se vogliamo dare solo la colpa al PD, diamola solo al PD. Non mi pare che gli altri partiti fossero su un'altra linea. Però il punto centrale è che è una di quelle cose che mi fa pensare che se fosse passato il referendum costituzionale e si fosse ridotto l'iter parlamentare, questo problema non ci sarebbe più. Dopodiché, direttore, tutto quello che vuole. Ma qui sta parlando con uno che il vitalizio non ce l'ha, che ha combattuto i vitalizi e che dice occhio a combattere la casta perché è sacrosanto. Ma poi la politica onesta è quella capace perché se tu non metti delle persone competenti e metti soltanto delle persone che mettono delle bandierine e poi non risolvono i problemi, la gente non le vede le risultanze concrete dell'imprendimento politico. Per chiudere, così che sia chiaro fino a fondo, quando ho fatto il Presidente del Consiglio il mio stipendio era alla metà di quello di un parlamentare. Deve essere chiaro anche questo. Il Presidente del Consiglio in Italia prende una bella cifra, ma sono 5.000 euro netti. Ok? Che è una bella cifra rispetto a un impiegato, a un lavoratore, ma sono quelli. Allora, chi fa politica non lo fa per i soldi. Se lo fa per i soldi è un ladro. Chi fa politica lo fa perché crede a un valore. Se vuol fare i soldi fa altri mestieri. E questo per me è molto importante ed è fondamentale di vita. Alessandro, allora questo viaggio di Usa era chiaramente tra quelli che seguono la sua campagna elettorale. Io vorrei chiedere una cosa, spero di avere una risposta ovviamente sincera e non diplomatica. È diverso però il clima rispetto al 40% delle europee di questa gente? Lo ha notato o è cambiato qualche cosa? Tra i nostri no. Tra i nostri no. È chiaro che fuori, difficile dirlo, nel senso che queste manifestazioni ci vengono anche gli indecisi. Abbiamo visto. E alcune si convincono e altri no. Ma questo è il bello della democrazia. Però tra i nostri ho visto un clima molto carico. Il PD vuole essere il primo partito lunedì prossimo. Il primo gruppo parlamentare. Ne abbiamo già parlato l'altra volta. Se vuole ne riparliamo. E il clima che io vedo tra i nostri, abbiamo visto Grosseto, ma ho visto oggi Brescia, c'erano più di 500 persone all'ora di pranzo di lunedì. È di un clima esaltato, entusiasta. È chiaro che ci sono tante questioni aperte, tante problematiche. Per esempio quella signora che dice a me Salvini fa paura. perché la deriva pistolera che non c'è in Italia è basta, ma che c'è per esempio in America. Trump ha detto daremo la pistola alle insegnanti, ai professori. Io dico ragazzi qui siamo tutti matti. Questo clima di preoccupazione sicuramente c'è. Ma lo vedo dal palazzetto dello sport di Grosseto, lo vedo in tante altre circostanze. Io trovo il popolo del PD bello carico, almeno i militanti. Io poi voglio capire, secondo te chi deve temere? Quella signora, tu non c'eri sicuramente alla manifestazione di Renzi. Sallusti non l'abbiamo vista, la manifestazione di Renzi. Non l'avete vista recentemente. Ancora almeno... E tra chi era indecisa? Cioè il popolo del PD, tra chi poteva essere indecisa? Quel voto, quel 40% oggi, su chi indecisa? Ma l'elettorato di Renzi è uno dei pochi elettorati, come del resto quello di Forza Italia, è uno dei pochi elettorati contendibili. Perché l'elettorato moderato che sta al centro è un elettorato sicuramente più contendibile di quelli estremisti. Cioè voglio dire difficile che uno l'anno scorso, 5 anni fa ha votato l'Era e quest'anno vota Renzi o viceversa. Quindi sono elettorati contendibili e poi nella contesa non lo so. Però mi spiace che il presidente Renzi chiami pistolero Salvini, perché non c'è nessuna traccia che Salvini abbia mai inneggiato all'uso delle armi se non per la legittima difesa. E anche perché le ricette alle quali immagino si riferisca il presidente sull'immigrazione che lui chiama pistolere sono di fatto le ricette che finalmente anche un governo di sinistra si è deciso a mettere in campo con Minniti. Cioè sono ricette di rigore, di accoglienza per chi deve essere accolto, ma di grande rigore per chi non deve essere accolto. Quindi non so se anche Minniti è un pistolero. E nel suo partito c'è chi ritiene Minniti un pistolero. Trovo, segno un punto di totale dissenso rispetto a Sallusti. Io ho parlato non di Salvini pistolero, né ho fatto polemica come hanno fatto altri per il fatto che l'uomo che ha sparato a Macerata fosse stato candidato della Lega o fosse stato un dirigente della Lega. Io sono uno di quelli che, come lei sa, non ha fatto quella polemica. Non ho detto oggi che Salvini è pistolero, ho detto una cosa diversa. Ho detto che c'è una deriva pistolera che non ha niente a che vedere, caro direttore, con l'immigrazione. A voi scatta sempre questo contatto, questo link tra problematiche della criminalità e problematiche dell'immigrazione. È evidente che ci sono degli immigrati che delinquono. E vanno cacciati. Perché se uno commette un reato deve andare in carcere e se non ha diritto deve essere cacciato. Questa è la linea di Marco Minniti ed è la linea della quale il PD è totalmente convinto. Io ho fatto un ragionamento diverso. Ho fatto un discorso che riguarda il rischio culturale. Se lei sta dalla parte della sicurezza, di immigrazione parliamo dopo, come immagino che stia e come tutti noi dobbiamo stare, dobbiamo ragionare di come far funzionare meglio le nostre donne e uomini delle forze dell'ordine. Allora, in questi anni il governo di destra, i governi di destra, hanno bloccato le assunzioni in polizia e nei carabinieri. E siccome noi siamo persone serie e non scherzano sulle paure delle persone, non giocano col fuoco, al punto 22 dei 100 punti del nostro programma potete trovare non soltanto le misure realizzate in questi anni, i 37 milioni per la videosorveglianza, lo sblocco del Tarnove per carabinieri, poliziotti e finanzieri, ma anche le misure per il futuro. Noi proponiamo, lo diciamo con forza agli italiani, l'assunzione di 10 mila carabinieri e poliziotti perché sul territorio vi sia una maggiore presenza delle forze dell'ordine. E noi lo facciamo dopo che per 17 anni non si era più messo un centesimo sul comparto sicurezza. Do un'informazione di servizio. Domani alle 15, al Nazareno, insieme al Ministro Minniti, al Ministro Pinotti, al Ministro Madia, presenteremo i numeri perché in questa campagna elettorale giocano sulle vostre paure ma non raccontano la verità. La verità è che per anni si sono bloccati gli investimenti sulle forze dell'ordine. Noi li abbiamo sbloccati, la prima legge di bilancio che li sblocca porta la mia firma e oggi finalmente si riparte insieme. Allora su questo finisco. Mi fa finire una cosa, direttore, poi finisco. Detto questo, è detto che su questi temi bisognerebbe non dividersi e non litigare perché riguardano tutti gli italiani. A me pare importante dire che c'è un problema di certezza della pena in Italia. Cioè se io becco il ladruncolo e mi esce di carcere nel giro di 24 ore, 36 ore, 12 ore e poi magari lo ribecco a fare taccheggio in un supermercato, dico la cosa più banale, è evidente che la gente fatica a credere nella certezza della pena. Ma è anche vero che l'Italia deve ricordare, e quindi su questo bisogna lavorare di più. Io sono perché si lavori di più e meglio. Ma è anche vero che in questi anni l'Italia è l'unico paese europeo che grazie alla professionalità delle forze dell'ordine, dei carabinieri, dei poliziotti, dei finanzieri, ha retto il G7. Da noi a Taormina zero incidenti, G20 ad Hamburgo, i tedeschi, è successo un caos. Ha retto l'Expo, capolavoro dal punto di vista della sicurezza. Ha retto il Giubileo, che comunque ha visto capi di Stato e di Governo di tanti paesi. Ha retto il semestre italiano di presidenza, con i 28 capi di Stato e di Governo. No, lo voglio dire, questo è molto importante. L'Italia è un paese che ha delle forze dell'ordine. Non lo diamo la pistola ai professori che nelle classi garantiscono la sicurezza con le pistole. Noi abbiamo delle forze dell'ordine e mi fa piacere che lei lo riconosca. Però di questa filosofia, secondo me, dovrebbe avvisare anche la maggior parte dei suoi sindaci che, faccio un esempio, a Milano, nella unica grande operazione di polizia, assolutamente civile, non ci fu un ferito, fatta dalla polizia per sgombrare l'illegalità che circondava, aveva occupato la stazione centrale di Milano, il sindaco di Milano, che è del PD, si scagliò violentemente contro questa operazione di polizia e il giorno dopo sfilò insieme agli immigrati. Così altri sindaci rifiutano i militari per le strade o i carabinieri di quartiere. Cioè, avvisi il suo partito che da un po' di tempo a questa parte... Voglio farvi vedere queste immagini però. Poi lo facciamo però. Adesso le faccio vedere queste immagini perché è vero tutto quello che ha detto lei, l'elenco, il G6... Scusi, sono apposto un po' ma sul PD. Poi vediamo le immagini. Però sul PD bisogna rispondere, perché io ho fatto il sindaco. Allora, il sindaco del PD, i sindaci del PD sono stati, grazie al decreto Minniti, i sindaci anche non del PD, ma i sindaci del PD sono convintamente, su questa linea, incaricati di maggiori responsabilità nella tutela dell'ordine pubblico. Oggi un sindaco, a differenza di quando facevo il sindaco io, può ad esempio convocare il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, cosa che prima faceva solo il prefetto. Allora, non raccontiamo su questi temi che il problema è l'immigrato. Perché quando l'immigrato nigeriano uccide una ragazza di 18 anni che si chiama Pamela, ammacerata, io sono perché quello vada dentro fino all'ultimo giorno, non perché è immigrato, ma perché è un killer. E quando due giorni dopo accade la stessa cosa per Jessica, ragazza di 19 anni, uccisa in modalità analoghe, atroci e lì il colpevole è un cittadino italiano, a me non interessa il passaporto del tramviere milanese o del pusher nigeriano. Io sono perché chi ha sbagliato paghi. Io la trovo raccapricciante questa cosa qua però. È ripresa da una telecamera, da Angelo Machiavello. Io la mia unica espressione rispetto a queste parole è che si sintetizza con una parola che schifo. Secondo me, lo dico con molta sincerità, un insegnante che augura la morte di un poliziotto o di un carabiniere andrebbe licenziata su due piedi. Non so se è una cosa per il terribile giuridicamente, ma di che cosa stiamo parlando? Un insegnante viene pagata per andare a educare alla cittadinanza nelle scuole. Vediamo di essere... Io non so cos'è, Torino? Torino ha una realtà molto particolare. Ci sono dei centri sociali, peraltro... Che andrebbero chiusi, come dice qualcuno del centro estero. Lo dice Stefano Esposito, candidato al Senato del PD. Lo dicono altri. Io penso che si debba utilizzare, come dire, non fare... Bisogna vedere cosa dicono quei centri sociali. Nel senso che per me quell'insegnante va licenziata. Punto. Uno che picchia in nome dell'ideologia un carabiniere come è accaduto a un carabiniere di Scandicci in servizio a Bologna qualche giorno fa a Piacenza, si chiama Luca ed è stato picchiato da dei manifestanti, quella immagine che avete visto. Chi picchia un carabiniere non è uno che ha un'ideologia, è un criminale e va assicurato alle patricarie. E... Nella sinistra la discussione è lunga anni. Vi ricordate quando Pasolini, io ancora non ero neanche nato, scriveva ai ragazzi di Valle Giulia delle parole... I proletari erano i polizioti. Assolutamente, delle parole molto chiare. Allora, la mia opinione è che su questi temi non ci dovrebbe essere divisione. A, più soldi alle forze dell'ordine. Lo ha fatto il governo del PD. B, chiarezza sui compiti. Le pistole si danno non ai professori. Perché chi dà una pistola, chi pensa di dare una pistola a un professore... Ma questo è Trump. Ho capito, Porro, ma non è che sto dicendo che l'ha detto lei o Sallusti. Sto dicendo che bisogna evitare la deriva pistolera. E bisogna su questi temi non fare campagna elettorale, ma ritrovarsi tutti insieme. Perché una che dice le cose che ha detto in quel modo lì, non c'è bisogno di essere di destra o di sinistra per dire che è una persona pericolosa per l'educazione dei suoi ragazzi. Allora, i dati ufficiali sulla sicurezza sono quelli forniti dall'Istat e ci dicono che furti, rapine e delitti negli ultimi anni sono diminuiti. Negli ultimi tre anni, 2014, 2015, 2016, sono inequivocabilmente diminuiti. Questo non si può dire su base di dieci anni, ma negli ultimi tre anni sono diminuiti. Però, Presidente Renzi, qui il tema resta perché la percezione non è una cosa che conta poco, perché gli italiani votano con la percezione, per esempio. Non è soltanto un problema di voti, siamo seri. Lei dice, fa vedere dei dati per i quali chi ha governato in questi anni dovrebbe dire, avete visto? Le cose vanno un po' meglio. ma siccome conta la percezione, noi sappiamo che sulla sicurezza c'è da fare di più. Parto da Napoli perché Napoli è una realtà peculiare sotto questo profilo. Le baby gang, i gruppi di ragazzi che intervengono in alcuni quartieri o le strutture legate alla camorra che abbiamo visto, sono una piaga per quella città. ma si combattono e si stanno combattendo grazie, uno avete visto alle forze dell'ordine. C'è qualcuno in questa campagna elettorale che vuole abbassare lo stipendio alle forze dell'ordine? Beh no, nessuno. No, sì. Lei guardi il programma dei 5 Stelle e vedrà che ci sono sul comparto polizia e forze di sicurezza dei tagli. Questa gente va pagata di più e meglio perché quel carabiniere che avete visto come tanti altri carabinieri rischiano ogni giorno del loro per dare una mano concretamente alla vita e alla legalità delle aree come quella di Napoli, del centro di Napoli. Però io dico che non basta, io dico che non basta, ci vuole anche l'aspetto educativo. La candidatura di cui sono più fiero tra le tante candidature del PD è quella di Paolo Siani. Paolo Siani è un pediatra, è un professore, è un primario all'ospedale Santo Buono di Napoli. suo fratello è stato ucciso dalla Camorra oltre 30 anni fa, era un giornalista, Giancarlo Siani, giornalista del mattino e la Camorra gliel'aveva giurata e l'ho ucciso e sotto casa. Ma Paolo è stato in questi anni non soltanto il testimone della lotta contro la Camorra, è stato, è tuttora un pediatra che combatte contro la povertà educativa infantile. Che cosa mi ha detto la prima volta che l'ho incontrato? Vedi, la cosa più drammatica è vedere due donne incinta che arrivano all'ospedale e tu sai già che avendo un censo diverso, una storia diversa, quella che è messa peggio dal punto di vista economico, 9 su 10 avrà il figlio che rischierà di più di essere in mano alla criminalità e alle forme di illegalità. Capite che bisogna fare non solo il lavoro dei carabinieri, dei poliziotti, ma ci vogliono le strutture educative, le scuole aperte il pomeriggio, le realtà bellissime di riscatto sociale, per esempio la cooperativa, le cooperative che padre Antonio Loffredo a Napoli, al quartiere, la sanità ha messo in piedi, il mondo che sta dicendo no alla criminalità. Insomma, è facile fare gli spot in campagna elettorale. Io potrei venire qui e dire, ragazzi, i reati sono diminuiti, però dico una cosa diversa, dico, noi bisogna combattere l'illegalità, però bisogna anche in realtà come Napoli attrarre grandi investitori internazionali. Finisco su questo. Guardate che quando la Apple, la Apple, la Apple cos'è? La Apple è quella che fa i telefonini, ok? È un'azienda che ha sede a Cupertino, in Silicon Valley, in California. Io sono, una delle cose di cui vado più orgoglioso è aver convinto Tim Cook, che è l'amministratore delegato di Apple, dovendo fare un centro europeo per la ricerca dei prodotti Apple, un centro europeo, io gli ho detto perché non lo fai a Napoli? E lui, non è che l'ha fatto per me, l'ha fatto perché ha visto la Federico II, gli ingegneri di Napoli, lui e la Cisco Academy, un'altra grande azienda mondiale, hanno messo cervelli da tutta Europa a lavorare a Napoli. Si vince anche così, non solo con i carabinieri. Presidente, lei insiste nel tenere separato il problema della sicurezza, della criminalità da quello dell'immigrazione, però io credo che le aziende fanno fatica a venire in Italia anche perché vanno in un paese dove ci sono in giro 600.000 persone senza arte né parte che non si sa bene come campano da mattina a sera. Le voglio dire questo, è vero che noi abbiamo la nostra criminalità, lei prima ha ricordato l'omicidio di quella ragazza a Milano, ma voglio dire lei viene da Firenze, il mostro di Firenze non era certo un immigrato, abbiamo la mafia, abbiamo la Ramorra, abbiamo l'Andrani, insomma abbiamo tutto un bel repertorio criminale, ma forse proprio per questo, siccome siamo già a un livello di guardia, le immigrati, questi sono dati del suo governo, del Ministero degli Interni, delinquono quattro volte in più degli italiani, per ogni italiano che delinqua ci sono quattro immigrati che delinquono, non solo, ma rappresentano circa l'8% della popolazione, sono 5 milioni e sui reati di microcriminalità, sempre dati dei suoi governi, arrivano a saturare quasi il 50% di furti, borseggi, piccole rapine, quindi non è solo una questione di percezione, l'italiano lega la sua sicurezza all'immigrato, perché l'immigrato delinque di più dell'italiano, il quale italiano già delinque di suo, ma l'immigrato delinque di più, negare questo significa negare anche dei dati oggettivi, io sto commentando un fatto devastante, ma anche l'italiano uccide, è certo che anche l'italiano uccide, mi perdoni, abbiamo la mafia, non faccia una rappresentazione macchiettistica anche lei, la prego, questa è una campagna elettorale in cui si sente dire di tutto, non prendiamoci in giro, è come quando si dice rimpatriremo 600 mila immigrati irregolari, e poi Brunetta ha detto ne faremo 100 alla settimana, sapete quanto ci vuole con il criterio di Brunetta? 100 alla settimana, ci vogliono 111 anni, ma indica una strada, indica che le porte sono aperte a uscire e non entrare, io sono sicuro che tra 111 anni Berlusconi si ripresenterà porta a porta e farà un contratto con gli italiani e dirà che diminuisce le tasse e va tutto, e se volete credere a questo, credeteci, io sto facendo una campagna elettorale, forse persino noiosa rispetto a quelle del passato, ma sulla base della serietà, allora alcune delle cose che lei dice sono sacrosanti e io non le nego, da che mondo è mondo chi è migrante rischia di delinquere di più e in alcuni casi delinque di più senza rischiare, questo accadeva agli italiani che nel 1900 andavano in America e esportavano la mafia, questo è accaduto negli anni anche nell'immigrazione interna perché io sono più giovane, sono del 75 a 43 anni ma negli anni 60-70 le grandi città italiane soprattutto quelle del nord avevano una maggiore presenza di criminalità legata a chi veniva dall'immigrazione interna in particolar modo dalle aree del mezzogiorno oggi lo stesso tema è un tema che si pone e io sono d'accordo con lei e dico bisogna avere il pugno duro contro chi delinque le dirò di più quando leggo che a Bologna un padre di fatto sequestra la figlia un padre immigrato in questo caso sequestra la figlia e le fa tagliare i capelli perché lei si vuole vestire all'occidentale una ragazza di 16 anni adesso mi ricordo se 16 o 17 io sono fiero e orgoglioso dell'assessore ai servizi sociali che ho candidato al Parlamento del mio partito assessore del PD che prende quel padre e propone al tribunale ai giudici di togliergli la patria potestà perché chi sta in Italia rispetta la Costituzione quello si chiama è un candidato che io ho portato candidato al PD di Bologna è chiaro? questo è il mio PD ma devo anche dire con la stessa chiarezza con cui dico questo A che l'equiparazione to cure sicurezza immigrazione è sbagliata perché accanto a tante persone che delinquono ci sono persone che scappano perché rischiano di morire di fame ma quelle sono le prime vittime quelle degli altri sono d'accordo io posso aver perso dei punti nei sondaggi ma rivendico il fatto nel 2015 di aver salvato o meglio di aver chiesto alla Marina Militare e alla Guardia Costiera di fronte alle quali mi tolgo il cappello di aver salvato migliaia di vite umane perché prima di essere un politico sono un essere umano però Presidente questo è onestamente questo credo che l'avrebbe fatto l'avrebbe fatto qualsiasi prima parliamo di cose mi fa specie che il problema non è se salvare o non le vite in mare come il problema non è rimpatriare Ducur 600.000 persone ma indicare una strada con ritmi di brunetta per forza quando il centrodestra dice rimpatrieremo tutti i clandestini cioè 600.000 persone penso che intende di dire signori da oggi le porte dell'Italia sono aperte in uscita e sono chiusi in entrata poi tecnicamente non lo so si farà non si può fare si farà in parte però volevo farle questa scusi su questo parliamo però concretamente perché chi ha firmato l'accordo di Dublino che ha reso il problema dell'immigrazione un problema solo italiano e Berlusconi è venuto ma lei rinfacciano di aver firmato l'accordo di aver barattato lo sforo di un punto con tenersi gli immigrati in casa salusti mi scusi ma io faccio una campagna elettorale siccome non voglio rimpianti il giorno dopo e voglio che il PD disse al primo partito io voglio essere talmente serio e rigoroso che su questi temi bisogna mettere i puntini su lei in questo canale canale 5 una delle reti più importanti d'Italia il presidente Berlusconi ha detto che il trattato di Dublino l'ho firmato io non è così è un trattato firmato nel 2003 io avevo appena finito l'università nel 2003 è chiaro? l'ha firmato Berlusconi no la revisione del trattato benissimo no la revisione l'ha firmata Enrico Letta quindi mettiamo i puntini su lei però se vogliamo andare nel merito delle discussioni io dico la questione immigrazione può vedere tutti d'accordo su alcuni paletti per esempio nel 2020 parliamo concretamente così che almeno gli italiani possono farsi un'idea nel 2020 scatta il nuovo bilancio europeo ma la discussione inizia adesso noi ogni anno mettiamo dai 18 ai 20 miliardi di euro sul tavolo dell'Europa e ne prendiamo indietro soltanto da 11 a 13 perché siamo un paese ricco noi siamo un paese che mette più soldi di quelli che prende io dico possiamo tutti insieme PD Forza Italia 5 Stelle Lega tutti accettare la proposta che ha fatto il governo italiano nel 2016 che è quella o tu paese dell'est europeo accogli i migranti oppure io smetto di darti i soldi italiani perché non può esserci solidarietà vediamo la seconda parte di Capozzo la seconda parte di Capozzo aspetta Renzi io le voglio chiedere una cosa perché poi il tempo passa e la sicurezza ne abbiamo parlato a lungo mi fa dire soltanto una cosa siccome il pezzo di Tony Capozzo è molto toccante e molto bello nel ringraziare i carabinieri per il servizio che svolgono noi spesso ci dimentichiamo che c'è un altro pezzo di Italia che funziona nel pubblico voglio dire un nome il professor Chiara Cane perché questo carabiniere Luca Di Scandicci è stato operato dal CTO di Firenze e da una struttura di primordine della sanità pubblica del nostro paese ci sono molte cose che non funzionano sprechi in realtà che non vanno ma siccome ho avuto modo di parlare qualche giorno fa con quel professore che l'ha operato vorrei dire grazie suo tramite agli infermieri ai medici a chi ha una sanità pubblica degna di questo nome cosa che altri paesi non hanno mi permetti una coda perché poi passiamo ad altri temi mi immagino che passi ad altri temi uno dei temi centrali della fine legislatura dove se brava dovesse dipendere il destino del paese è completamente scomparso dalla vostra agenda elettorale che è lo Iussoli io non è che seguo tutti i suoi comizi e i suoi interventi però insomma non ho percezione che lei abbia messo lo Iussoli al centro della sua agenda elettorale come mai? la vedo monotematico stasera direttore la vedo molto incentrato sui grandi temi io vorrei parlare un po' di economia perché questi carabinieri non li paghiamo con lo Iussoli scusi poi dopo datemi un tempo è una posizione sulla quale si è discusso a lungo il tema è il diritto di cittadinanza per i bambini che nascono in Italia continuo a pensare che su questo tema meno si fa scontro ideologico come quello che fa chi vuol dire che sicurezza uguale immigrazione meglio è per il bene dei nostri figli come fa a convincere gli elettori perché scusi Porro alla fine evocare le paure ogni giorno non aiuta questo paese a essere più sicuro continuare a far credere che siamo in una realtà in mano ai criminali quando avete visto i dati i dati della criminalità in questi tre anni non grazie a me non grazie a me grazie al lavoro dei carabinieri dei poliziotti sono diminuiti ci sono meno reati però costantemente diamo un messaggio che è un messaggio di paura io sogno una campagna elettorale chissà se questi cinque giorni ci aiuteranno in questa direzione in cui anziché continuare a evocare le paure si racconteranno le speranze abbiamo una paura e la le faccio le due proposte economiche più importanti da un punto di vista mediatico di questa campagna elettorale una è la flat tax del centro-destra e l'altro è il reddito di cittadinanza del Movimento 5 poi mi farà dire anche la misura sulle famiglie del Partito Democratico e lo facciamo certamente però ammetterà che su questi due temi abbiamo perché non sono credibili sono due cose tutti e due entrambi incredibili non so che non sono incredibili queste sono cose guardatele bene ecco fate un bel primo piano flat tax e reddito di cittadinanza voglio dare un messaggio agli italiani guardatelo bene ora perché dal 5 marzo non ne parla più nessuno perché queste coperture non esistono perché sono due proposte a presa di giro perché sono due proposte che non stanno in piedi la flat tax è come le olimpiadi c'è una volta ogni 5 anni le olimpiadi una volta ogni 4 Berlusconi una volta ogni 5 anni arriva in televisione e propone la flat tax poi fa il giorno della chiusura della campagna elettorale la cerimonia di chiusura come c'è delle olimpiadi la cerimonia di chiusura della flat tax è la prima volta presidente ma scusi ma lei se lo ricorda Berlusconi ora che debba fare io il berlusconologo con lei salusti la flat tax mi sembra la prima volta 94 fu proposta nel 94 con scarsa convinzione è stata proposta nel 94 è durata 8 mesi quel governo la flat tax è durata 8 ore perché è una cosa che funziona finché le urne sono aperte cos'è la flat tax tassa uguale per tutti no non ce lo ripeta anche lei per 2 ore adesso cos'è la flat tax no 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 lo sanno benissimo tutti a memoria Matteo Renzi lo sanno lo sanno lo sanno non so chi è l'altro che ne parla per due ore scusi lasci perdere no perché lei si sta per caso lamentando del suo editore no perché però la flat tax diciamo che è passata quello che parla due ore di flat tax non sono io ma confuso con un altro no però se mi facciamo anche due ore di critica della flat tax cioè lei è il suicidio collettivo mi ci basta due minuti mi servono due minuti sì due minuti sono uno è una tassa che fa pagare la stessa aliquota all'operaio e al metalmeccanico come al multimilionario è costituzionalmente ingiusta costa 100 miliardi per fare le coperture bisogna eliminare le tax expenses cioè i valori le detrazioni fiscali che vuol dire che voi per far pagare meno tasse a Berlusconi o a Grillo dovete pagare il biglietto dell'ATAC 5 euro già mi sembra che il servizio dell'ATAC diciamo fatichi immaginate che anziché pagare 1,20 o quanto è 1,50 qui a Roma a 1,20 a Firenze andate a pagare 5 euro la follia in più c'è un particolare e quale lei si ricorda quell'immagine di cui si parlava prima a proposito di Berlusconi del contratto con gli italiani al punto numero 1 Berlusconi diceva se lo ricorda che diceva Berlusconi al punto numero 1 del contratto con gli italiani che fa le domande no perché voi due lo dico nessuno di voi se lo ricorda se ci fanno le domande cioè per la sua e 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 per la sua perché messa all'ustine e porro si ricordano che ci stava scritto al primo punto del contratto con gli italiani ve lo dico io c'era scritto due sole aliquote 22,33% una flat tax meno flat ma non è riuscita a farne men quella allora sta cosa non stanno in cielo non in terra prima di arrivare a reddito di cittadinanza mi faccia dire cosa pensiamo noi del PD noi del PD non pensiamo che si possano fare promesse miracolistiche e dire 100 miliardi ma pensiamo che si possano prendere 9 miliardi di euro cioè mezzo punto di PIL e darli alle famiglie utilizzo un'espressione sintetica in questa legislatura il mio governo ha fatto il pieno alle imprese Ires dal 27 e mezzo al 24 IRAP costo del lavoro incentivi industria 4.0 cioè noi abbiamo detto l'Italia è messa male dobbiamo dare un aiuto alle imprese col Jobs Act e con tutto il resto quindi avete aiutato uno a chi ha figli perché noi abbiamo un problema in Italia oggi fare un figlio non è più neanche un diritto per fare un figlio rischi di andare sotto la soglia di povertà due gli anziani la gente che non arriva alla fine del mese hanno una autosufficienza una badante costa eppure noi sappiamo che con le malattie nuove l'Alzheimer non è nuovo il Parkinson non è nuovo ma più si vive fortunatamente più si rischia di prendere queste malattie e chi ci ha passato lo sa il dolore il reddito di cittadinanza abbiamo pochi secondi perché prima della pubblicità è più importante questo di tutto il resto scusi perché alla fine noi se no diamo ore a parlare delle coalizioni poi uno ha l'Alzheimer e la fatica che fa una famiglia nel non poter più condividere i ricordi è un dolore quotidiano allora io non sto dicendo che attraverso gli incentivi fiscali che faremo noi uno affronta meglio l'Alzheimer perché l'Alzheimer è una malattia terribile devastante a prescindere quando tu non puoi più dire a tua moglie a tuo marito a tuo padre quando tuo padre non ti riconosce più non c'è incentivo fiscale che tenga però però me lo lasci dire se noi possiamo dare le stesse misure almeno 9 miliardi di euro cosa che il PD propone alla famiglia e al sociale avremo una comunità un pochino più giusta di lui reddito di cittadinanza le voglio chiedere cosa c'è di male al contrario di aiutare i più deboli che non lavorano e che non hanno un reddito che è la grande proposta insomma no non è così perché una cosa è dare il reddito a chi non ce la fa cioè tu sei stato licenziato hai finito la NASPI la cassa integrazione tutti gli strumenti allora o non arrivi a un certo livello di reddito c'è già una misura si chiama reddito di inclusione l'ha messa al nostro governo è una misura che può essere aumentata ma c'è già il reddito di inclusione 5 Stelle propone una cosa diversa 5 Stelle dice reddito di cittadinanza cioè voi state pure a casa una famiglia con due figli 1680 euro al mese io l'altro giorno ero a raccontarla a Napoli a teatro si è alzato uno e mi ha detto dov'è che si firma perché perché è evidente che è una misura di assistenzialismo però lo voglio dire in particolar modo alle persone più anziane noi siamo un paese fondato sulla fatica sul sudore sul lavoro sul sacrificio noi non siamo un paese di parassiti e sanguisughe che vivono alle spalle di chi lavora e allora la misura dell'aiuto ai più poveri è sacrosanta il reddito di cittadinanza è una misura diseducativa perché mentre il Jobs Act ha dato incentivi a chi assumeva il reddito di cittadinanza è un incentivo per chi si vuole licenziare è un incentivo per chi non vuole lavorare io all'Italia fondata sui fanulloni non credo perché lei non è stato così folle Matteo Renzi dopo non aveva 30 anni 40 anni quando ha perso Palazzo Chigi lei si è dimesso da Palazzo Chigi ha perso il referendum perché non è stato così folle di fare una nuova Apple ora cioè sarebbe un nuovo PD eh no ora sta confondendo i piani intanto questo è un bellissimo discorso che Steve Jobs ha fatto ai ragazzi mi pare della classe 2006 laureati a Stanford alla Università di Stanford un discorso straordinario bravissimo Preziosi a interpretarlo e Boccalupo a Preziosi che sta portando in scena una pièce di Stefano Massini in questi giorni molto molto bella non farei paragoni Apple PD direi però che da ogni botta da ogni sconfitta si deve imparare qualcosa noi siamo un paese strano un paese in cui per anni il fallimento mi riferisco al diritto commerciale non alla politica il fallimento di un'azienda era visto come un'onta aveva un valore quasi peccaminoso chi falliva in un'azienda addirittura non poteva più votare e invece noi dobbiamo educare i ragazzi i ragazzi delle nuove generazioni che nel mondo di oggi si può anche fallire si può provare riprovare creare una start-up battere qualche volta la testa nel muro ma poi riprovare ad essere affamati ad essere folli come ci sono allora le chiedo un'altra cosa che è relativa a questa le faccio un discorso da bar il Movimento 5 Stelle secondo i sondaggi che non vedo più dal tempo in cui si potevano vedere cioè dal giorno in cui era possibile mi sembra fosse il 15 febbraio veniva dato come un partito in grande crescita comunque forse il primo partito in Italia ce la giochiamo noi e loro loro negli ultimi sondaggi erano in testa alla camera negli ultimi negli ultimi quelli vecchi loro erano in testa alla camera va bene allora perché non provare un governo del Movimento 5 Stelle se gli italiani voteranno il Movimento 5 Stelle e daranno al Movimento 5 Stelle i numeri per fare il governo il Movimento 5 Stelle governerà trovo surreale e sorprendente che il Movimento 5 Stelle in questi giorni con il suo leader Luigi Di Maio chieda agli altri voti per governare loro che voi non darete mai ma scusi eh ci hanno insultato per anni hanno detto che noi siamo lo schifo assoluto hanno detto che noi siamo il male totale io dico con molta serenità con molta sincerità che io ritengo Luigi Di Maio incompetente per fare il Presidente del Consiglio lo ritengo incapace di rappresentare l'Italia uno che fatica a riconoscere la differenza tra il Venezuela e il Cile uno che in Parlamento in questi 5 anni è stato presente il 30% delle volte perché se uno a casa o domani mattina a lavorare va dal suo datore di lavoro e dice sai che c'è io su 10 giorni vengo a lavorare 3 giorni il padrone dell'azienda il datore di lavoro l'imprenditore o lo licenzia ipotesi più probabile o gli dà il 30% di stipendio invece Luigi Di Maio vicepresidente della Camera in 5 anni ha un tasso di presenza in aula del 30% e in più le loro idee a me non convincono non convince il reddito di cittadinanza non convincono le loro idee per creare i posti di lavoro perché in questi anni il PD ha preso un paese che era fermo e l'ha rimesso in moto con tutti i nostri limiti i difetti ma la nostra squadra Gentiloni Paduan Calenda Minniti Del Rio Franceschini e compagnia bella è la squadra che ha rimesso in moto il paese allora se gli italiani voteranno Di Maio e Di Maio avrà i numeri per governare il PD farà l'opposizione non sarà un'opposizione pregiudiziale ma il PD sarà l'opposizione ma se il Movimento 5 Stelle non ha i voti per governare trovo surreale e sorprendente che da giorni Di Maio dica poi chiederemo i voti agli altri eh no i voti o te li danno gli italiani oppure non governano ma questo vale anche con un partito di cui lei non condivide ad esempio come appena detto la flat tax lo stesso ragionamento il ragionamento è identico per tutti gli estremisti Porro parliamoci chiaro noi abbiamo fatto ci faccio a capire chiaramente è un estremista Berlusconi ma non solo sa chi è il candidato che Berlusconi mi ha messo contro a Firenze chi l'ha messo contro si chiama Bagnai sì cioè un esponente della Lega i cittadini di Firenze al collegio Firenze 1 o votano per possono votare ovviamente per chi vogliono ma la partita si gioca PD contro centrodestra in quel collegio lì e la partita o vinco io o vince questo che si chiama Bagnai cosa propone questo che si chiama Bagnai l'uscita dell'Italia dall'euro il protezionismo i dazzi i pellettieri di Scandicci per restare nel mio collegio rischiano il posto di lavoro se l'Italia esce dall'euro se noi scegliamo una società chiusa tutte le aziende che fanno export muoiono le aziende del nord est quelle che dovrebbero essere le più convinti a votare Lega rischiano di licenziare le persone se passa il principio del protezionismo dei dazzi e dell'uscita dall'euro allora chi propone di uscire dall'euro sì che è un estremista e Berlusconi che contro di me candida uno come Bagnai dimostra di andare dietro alla coalizione questo me lo traduci è un estremista il Movimento 5 Stelle è un estremista il Movimento 5 Stelle che propone l'uscita è un problema della legge elettorale per cui nel collegio nel collegio suo c'è un candidato di questo genere ma per dei suoi elettori vale l'inverso che si troveranno per votare lei diciamo si troveranno a votare dei candidati della Bonino o anche all'interno del suo partito che dicono delle cose completamente diverse o parzialmente diverse da quelle che sostiene lei questa è la campagna elettorale poi decideranno decideranno gli elettori ma io volevo tornare al discorso di Steve Jobs perché anche lei era partito così cioè nel garage di Firenze lei ha costruito una cosa che è pronti via 40% una specie di Apple della politica che aveva anche qualcosa di simile ad Apple sembrava qualcosa di veramente nuovo tanto è vero che lei ha attirato l'interesse anche di elettori non storicamente suoi non storicamente di sinistra però poi dopo qualcosa si è interrotto lei da questo punto di vista non ce lo racconta giustamente prima diceva Berlusconi nel contratto con l'italiano aveva promesso due aliquote ma se andiamo a vedere le promesse del suo contratto con gli italiani quando si è insediato a Palazzo Chigi ha fatto il discorso con la fiducia io mi ricordo le slide sembrava che in sei mesi dovesse cambiare il paese compreso la cito perché ero testimone oculare il fatto che aveva detto che entro settembre sarebbero stati azzerati i debiti dello Stato con le aziende per le forniture pubbliche tutte cose che non sono accadute tante altre non ne sono accadute e la prova è che lei è partito dal garage di Firenze pronte via si è ritrovato con la Apple ma a distanza di cinque anni al di là della scissione il suo consenso è sceso io le auguro il più alto possibile ma diciamo i sondaggi quelli dicibili dicono il 22-23% cioè ha lasciato molto consenso per strada allora lei dice io per l'imprenditorio ho fatto questo per le famiglie ho fatto quello ma allora non l'hanno capito non l'hanno visto perché se no non si spiega perché dopo cinque anni il suo consenso è andato indietro invece di andare avanti la questione è molto seria e io la prendo con la stessa serietà che utilizza lei è vero io in questi anni ho perso consenso sì in questi anni io ho governato non sono rimasto su quella seggiola per pensare al mio consenso se lo avessi voluto fare non avrei fatto un referendum perché di lì non mi schiodava nessuno però vede Salusti io pensavo e continuo a pensare che quel referendum servisse all'Italia per semplificare il paese per avere il giorno dopo le elezioni non la mucchiata delle dalle intese però mi faraici parlare perché io l'ho lasciata parlare sia così cortese da farmi finire nel ragionamento perché è un ragionamento molto serio quello che lei ha fatto io voglio prenderla con altrettanta serietà quel referendum lì bastava non farlo e io oggi sarei il presidente del consiglio però sarebbe stata un'opposione persa per l'Italia e sono talmente convinto che fosse giusto farlo che ancora oggi vorrei lanciare un appello a quel popolo del 40% al referendum e dire se c'è lo stallo se c'è l'unpass è perché non è passato il referendum e quindi pensateci bene il 4 marzo alle conseguenze del 4 dicembre e magari dateci una mano ma vengo al punto del mio consenso io sono partito e ho detto alcune cose ho detto che avrei voluto abbassare le tasse che avrei voluto riformare il mercato del lavoro che avrei voluto cambiare il sistema della pubblica amministrazione molte cose si sono finalmente mosse non tutte quelle che io volevo cambiare e vorrei vedere qualcuno che da casa è così convinto di far tutto bene da dire non si sbaglia mai però qualcosa finalmente in Italia ha iniziato a muoversi allora mentre altri politici stanno lì per vegetare e vivacchiare attenti a non dar noi a nessuno mantengono il proprio consenso io ho cercato di impiegare quel 40% per provare a cambiare le cose nel nostro paese ci siamo riusciti? per molti aspetti sì e finisco su questo chi è intellettualmente onesto va a vedere i dati di quando siamo partiti l'Italia ha almeno 2,3% di PIL l'Italia oggi è al più 1,6% di PIL l'Italia aveva il 44% di disoccupazione giovanile oggi è al 32% ancora altissima l'Italia aveva il 13% di disoccupazione oggi è al 17% ancora altissima ma l'Italia ha produzione industriale ordini fatturato tutti gli indicatori che Porro definirebbe macroeconomici che hanno il segno più vede Salusti dovendo scegliere un politico vecchia maniera preferisce che le cose continuino a non cambiare e mantenere il suo gruzzolo di voti io ho preferito rischiare e anche sbagliare qualcosa ma vedere che mentre l'indice di consenso è sceso l'indice di occupazione è salito e per me vale più l'occupazione dell'Italia rispetto e chiudo rispetto è tutto vero i dati si possono leggere sempre a proprio favore le segnalo che dal 2011 a oggi cioè nei 5 anni dal 2012 a oggi abbiamo 3 milioni di poveri in più e 3 milioni di disoccupati in più Salusti dal 2011 scusi Salusti intanto sono 7 gli anni dal 2011 ad oggi ma dal 2011 ad oggi abbiamo un debito pubblico aumentato il debito pubblico rispetto al PIL è al 132% esattamente come era partito nel 2014 però se vogliamo fare una discussione su questo io sono l'uomo più felice del mondo perché il paese in crisi l'ha lasciato il governo centrodestra Lega lei ricorderà che i suoi colleghi i vostri colleghi del sole 24 ore i vostri colleghi del sole 24 ore il 10 novembre 2011 è facilmente rintracciato su internet fecero una cover no come si dice una prima pagina con scritto fate presto perché c'era lo spread a 5,75 poi si è scoperto allora allora Salusti la situazione di difficoltà dal 2011 è nata perché quel governo di allora lei sa chi c'era è un governo che non è stato capace di affrontare la crisi vogliamo stare a rinfacciarsi il passato no anche perché non abbiamo il tempo per farlo vi faccio vedere la nostra rotativa che cosa dice la nostra rotativa scusi il punto fondamentale è il futuro del paese e il futuro del paese ci sono quelli che promettono miracoli irraggiungibili e irrealizzabili che raccontano che il 5 marzo ci sarà la flat tax il reddito di cittadinanza per tutti come diceva Lucio Dalla sarà tre volte Natale e festa tutto l'anno sono questioni chi vuole votare su queste proposte ha il mio rispetto ma è preso in giro noi non prenderemo mai in giro gli italiani poche proposte concrete soldi alle famiglie e soldi al social il tema vero è questo Matic Strang voto nessuna maggioranza perché questa legge elettorale a questo purtroppo ci porterà presumibilmente vero Salusti aspettate che votino gli italiani almeno io non capisco perché dovete fare almeno fateli votare cioè i sondaggisti hanno votato i giornalisti hanno votato se adesso votano gli italiani io dico che il PD sarà il primo partito e che lei cambierà la prima pagina di Matrix deve fare il 40% per poter governare questo paese con questa legge elettorale a meno che non si metti d'accordo o con il Movimento 5 Stelle o con Berlusconi non parli di corde in casa dell'impiccato perché per fare una legge elettorale in cui la sera stessa si sapesse il nome del vincitore ho perso la poltrona per cambiare il sistema e per avere un equilibrio diverso con una sola camera e con una legge elettorale col ballottaggio io ci ho rimesso la poltrona Greta l'ultima esagerazione di Renzi l'ultima esagerazione ma un tema le fake news ne ha parlato sulla stampa in un'intervista sulla stampa questa mattina dichiarando sono certo che vi sia almeno una doppia struttura di notizie false che viene usata dai canali in ufficio al vicino ai partiti politici c'è una una spettra delle fake news di tutte le mie esagerazioni ha preso una delle cose più concrete e serie ma i partiti ma i partiti che fanno fake news scusi scusi le dico l'ultima un video con una ragazza anzi no una immagine con scritto mi chiamo Francesca Renzi ce l'abbiamo facciamola vedere ce l'ha? si si ce l'abbiamo questa è Francesca Renzi cugina di Matteo Renzi non è sua cugina? questa io non so chi sia ma io non ho cugine che si chiamano Francesca Renzi nessuna è assunta come portaborse al senato guadagna 23 mila euro al mese ma come si fa? allora uno dice vabbè è uno scherzo perché l'autore di questa foto che si chiama Luca ha detto no ma io l'ho fatto per fare uno scherzo alla mia fidanzata ora tutti voi molti di voi hanno facebook guardate le condivisioni in basso quante? 54 mila condivisioni cosa vuol dire? no spieghiamolo se tu sei uno che fa uno scherzo e vuoi prendere in giro la tua fidanzata te la condividono in 12 quando voi fate un post ve lo condividono in 17 quando sono 54 mila è perché c'è una rete che aiuta la diffusione di notizie false e riguarda mia moglie che torna a casa con la macchina e riguarda i sacchetti di plastica biodegradate grazie Matteo Renzi non credete alle bucchie grazie Adessandro Sallusti